Parla tifoso dell'Azzurra. Preparati, perché l'attesa è quasi alla fine. Uno degli aggressori più dominanti del calcio europeo degli ultimi anni sta per unirsi al Napoli. La sopopera che si è svolta per settimane sta finalmente arrivando al suo climax e le ultime informazioni indicano che Lukaku è un passo per indossare la camicia blu di Napoli. In questa edizione del nostro canale Notizie di Napoli, immergiamolo in tutti i dettagli di questa negoziazione che promette di scuotere il mercato dei trasferimenti e aumentare il conteggio delle. Squadre di Antonio a un altro livello. Discutiamo dell'impatto che Lukaku può avere sulla squadra. Ricordiamo la sua traiettoria di successo con Conte in Inter Milano Times e, naturalmente, ciò che i fan possono aspettarsi da questa. Assunzione bombardica. Inoltre, diamo un'occhiata a come è stato cucito l'accordo, alle sfide affrontate durante i negoziati e perché questo risultato può significare un vero spartiacque per il Napoli in questa stagione. Resta con noi, perché ciò che dobbiamo rivelare può cambiare completamente lo scenario del calcio italiano. Romelu Lukaku, un nome che non ha bisogno di molte presentazioni. All'età di 30 anni, l'attaccante belga ha attraversato alcuni dei più grandi club del mondo, come il Chelsea, il Manchester United, l'Inter e il Chelsea, oltre ad avere una carriera internazionale. Invidiabile con la squadra del Belgio. Tuttavia, il suo capitolo più recente sembra essere scritto a Napoli, dove incontrerà Antonio Conte, l'allenatore che è riuscito a estrarre il meglio del suo calcio all'Inter. La relazione tra Conte e Lukaku è un punto cruciale per capire cosa sta per accadere. Sotto il comando di Conte, Lukaku divenne uno degli attaccanti più temuti d'Europa, portando l'Inter al titolo della Serie A del 2021, rompendo un'egemonia di nove anni della Juventus. La chimica tra i due era evidente e questo fattore era decisivo per il Napoli in seguire Lukaku. Conte sa esattamente come usare il belga nel suo sistema tattico, il che ci porta a credere che Lukaku potrebbe essere il giocatore scomparso per Napoli per fare il salto di. Qualità che tutti, sì, aspettano. I dettagli di negoziazione non sono stati facili da risolvere. Uno dei principali ostacoli è stato il problema dei diritti di immagine di Lukaku, qualcosa che è sempre delicato nell'assumere grandi star. Tuttavia, nelle ultime ore, gli avvocati di Napoli e i rappresentanti di Lukaku sono riusciti a raggiungere un accordo che soddisfa entrambe le parti. Questo passo è stato essenziale per il completamento del trasferimento e ora tutto è allineato in modo che Lukaku diventi ufficialmente un giocatore di Napoli. Sky Sport ha riferito che oggi dovrebbe essere raggiunto un accordo totale, il che significa che se tutto va come previsto, Lukaku arriverà a Roma domani mattina per eseguire gli esami medici. Successivamente, incontrerà Aurelio de Laurentiis per firmare il contratto che lo vincerà permanentemente al Napoli. Il valore di trasferimento è di circa 30 milioni di euro, con una clausola che garantisce a Napoli il 30% del valore di una futura rivendita. Questa struttura aziendale è interessante in quanto minimizza i rischi per il Napoli e garantisce comunque una possibile ricompensa finanziaria in futuro. Ora, parliamo dell'impatto che Lukaku può avere sul Napoli. Con la partenza di Victor Osiman, che è sempre più una possibilità, Lukaku arriva per riempire un vuoto che sarebbe lasciato nell'attacco napoletano. Ma non è solo una sostituzione diretta. Lukaku porta una serie di abilità che possono trasformare il modo in cui il Napoli gioca. La sua forza fisica, combinata con eccellente capacità di finitura e intelligenza tattica, lo rende un attaccante completo, in grado di risolvere i giochi sia all'interno che all'esterno dell'area. Si prevede che conta Lukaku in un sistema 3-5-2 o 3-4-1-2, dove può agire con un altro attaccante, come Quarazchelia, o addirittura guidare la linea offensiva da solo. Questo schema ha dimostrato di essere efficace all'Inter, dove Lukaku ha formato un duo mortale con Lautaro Martinez. A Napoli avrà attorno a ciò che si trovava di grande qualità tecnica, come Zilinski, Politano ed Elmas, che possono fornire il supporto necessario per lui per brillare. Tuttavia, come qualsiasi grande trasferimento, questo comporta anche rischi. La pressione su Lukaku sarà enorme, non solo per la sostituzione di Ozyman, ma anche per aver guidato l'attacco di una squadra che cerca di vincere sia il campionato italiano che fare una buona. Campagna in Champions League. Inoltre, dovrà adattarsi rapidamente alla vita a Napoli e all'intensa passione dei napolitani. Ma se c'è un giocatore che ha già dimostrato di essere in grado di affrontare pressioni aspettative, questo giocatore è Romelu Lukaku. E cosa possiamo aspettarci dai prossimi giorni? Una volta completato l'accordo, tutti gli occhi si concentreranno su Roma, dove Lukaku esaminerà gli esami medici e sarà quindi presentato ufficialmente come nuovo rinforzo di Napoli. Si prevede che sarà disponibile per i prossimi giochi, il che significa che non dovremo aspettare molto per vederlo in azione. I fan non vedono l'ora di vedere Lukaku sul campo e le aspettative sono molto alte. Tifosi azzurri, Napoli sta per fare una delle firme di maggior impatto degli ultimi anni. Romelu Lukaku, uno degli attaccanti più temuti d'Europa, sta per unirsi alla squadra di Antonio Conte, portando con sé la promessa di gol, titoli e grandi momenti. La sopopera sta avvolgendo al termine e se tutte le corse come previsto, Lukaku verrà presentato ufficialmente non appena il nuovo giocatore di Napoli. Questa assunzione non è solo un movimento di mercato, è una dichiarazione di intenti. Il Napoli sta dimostrando che è pronto per competere ai massimi livelli, sia nella Serie A che in Europa. L'arrivo di Lukaku può essere lo slancio di cui la squadra aveva bisogno per raggiungere finalmente i propri obiettivi e i fan hanno tutte le ragioni per essere eccitati. Quindi rimanete sintonizzati, perché i prossimi giorni promettono di essere elettrizzanti. Continueremo a seguire ogni fase di questa negoziazione e ti porteremo tutti gli aggiornamenti. Il Volt Napolitano. E ricorda, qui sul canale Nezi e di Napoli, rimani in cima a tutto ciò che accade nel mondo del Napoli. Assicurati di seguirci, divertiti e condividi questo video in modo che più napolitani possano unirsi a questo viaggio. Forza Napoli sempre! Forza Napoli! Forza Napoli! Forza Napoli! Grazie a tutti.